Siamo in attesa della primissima volata, io naturalmente faccio uno stop alla giuria per permettere di stilare l'ordine d'arrivo, vedo quattro atleti che si sono avvantaggiati sul resto del gruppo, sarà una volata a quattro e poi via via tutti gli altri. Applauso e volata! Aspettiamo! Stanno sopraggiungendo tutti man mano, ricordo ai bambini e ai direttori sportivi di mandare immediatamente i primi cinque a prova rapporto, qui nella zona premiazioni si farà la prova rapporto per i primi cinque classificati.